Ragazzi benvenuti in questo nuovo video sul mio canale youtube e benvenuti qui su Dragon Ball Z Dokkan Battle Allora ragazzi sono le 6 e 20 circa del mattino Calcolate che non mi sono svegliato io ma mi hanno svegliato a random quindi benissimo E ho detto vabbè a sto punto registro il video nonostante io mi sia svegliato da 5 minuti ma va bene Allora ragazzi questa è la batch di Goku e Vegeta Allora eccole qui Vabbè a me servono l'oro Poi perché no Non mi farebbe schifo però ce l'ho già Stessa cosa Stessa cosa Non ce l'ho quindi nel caso non lo trovo lo prendo coi coin Già ce l'ho Ce l'ho full Vabbè già ce l'ho E già ce l'ho vabbè Ok Allora ragazzi Il video Vabbè farò prima la Credo all'incirca 6 giri forse Sul loro 2 E poi faccio 6 giri da cooler Vabbè Essendo due video separati Ora facciamo quello di Goku e Vegeta Ragazzi io prima di continuare vi ricordo che potete iscrivervi al canale YouTube Attivare la campanellina Mettere like Commentare ecc Anzi Se mi dite cosa avete trovato Mi farebbe comunque piacere Allora Io direi non perdiamo tempo Speriamo bene E vediamo Allora Vediamo 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 Ok Oh Buona Potrebbe essere qualcosa di goloso Dai vi ripeto Anche un Cell Oh Long Sembrava long Raga calcolateci ho un occhio aperto e uno chiuso Non sto scherzando Cioè per farvi capire la situazione Cioè veramente sto morendo Vabbè raga nel caso in cui Cazzo Vabbè Nel caso in cui Che cavolo sto dicendo ragazzi Vabbè Ok Nel caso in cui trovo Goku e Vegeta Probabilmente mi fermo E passo a quello di cooler Quindi Vabbè vediamo Ok Vabbè FPA Vabbè dai Non ci lamentiamo Vabbè in realtà non sono Cioè sono 6G Ma Aspettate Buona Allora Oh Blu Potrebbe essere qualcosa di goloso Dicevo Comunque essendo Ma sembra la long Vabbè Essendo 6G Di più le scontate Dovrebbero essere comunque All'incirca 8 Io Spero bene Magari Svegliandomi alle 6.20 Magari qualcosa di buono Me lo porta a sto gioco Raga vi giuro Cioè sto proprio morendo Però ho detto Vabbè Fa niente Portiamo il video Ho anche perso il conto Speriamo 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 Eh vabbè Vabbè no il giro lo finisco No il giro lo finisco Anche perché Vabbè Finiamo il giro Tanto Sono solo 50 Dragon Stones A sto punto Gli butto No raga ma non ci credo Cioè Ah ok No ho detto raga Terzo Vabbè Non fa niente Come va va Ma magari riusciamo a trovare Cell Ve la vedo dura Ecco Cell chiama Cell E' stato un video Molto breve A quanto pare E quello di cooler Raga probabilmente Ci farà buttare il sangue So che comunque E' una leggendaria Quindi Meh Però ragazzi Ci sono veramente Un bel po' di carte Che mi servono lì Però Ora vado a registrare il video Vi dico tutto Senza problemi Ok Ci facciamo la free Eccola qua la free Cioè raga Io non ci credo Veramente Vabbè Noi ci potevamo Ci potevamo anche fermare prima Sarò sincero Però Essendo che Comunque Si poteva trovare Cell Che vabbè Io vi ripeto Lo compro con i coin Non è un problema Ho detto Vabbè Magari lo troviamo ora Non fa niente Guarda che non fa niente Alla fine abbiamo solo Speso 50 stones Vabbè Questa penso sia Shaftata Che non era Chissà che animazione Magari Se ce la butta lì Cell Schifo Non farebbe Ma non penso Un fake out Vabbè no raga Ci sta Ci sta Ci sta Ci sta Vediamo Ho pensato che si sono finite Ok ragazzi Io ora vado a registrare Il video di Di cooler Ho paura Ragazzi Ci vediamo In un prossimo video Io comunque vi ricordo Di mettere like Iscrivervi al canale Attivare la campanina E commentare Visto che voglio sapere Cosa avete trovato voi E nulla ragazzi Vi ho da registrare All'altro video Ciao a tutti